Ben trovati in questo pomeriggio un po' inoltrato per parlare un po' di mercato perché sappiamo perfettamente tutti quanti avranno letto che Giuntoli e Manna sono stati a Londra per intrecciare rapporti e parlare d'affari naturalmente. Fumo di Londra sempre molto molto affascinante e poi soprattutto lì siamo di fronte a uno dei campionati più belli della Premier League con qualche affare che si potrebbe fare, gioco di parole, aspettando quello che sarà poi naturalmente il famoso campionato arabo che ingloberà e farà da concorrente alla Premier League. Che hanno fatto Giuntoli e Manna? Lo possiamo soltanto leggere perché naturalmente siamo sempre nel campo delle ipotesi di mercato. Partiamo con il Tottenham di Heuberg che è stato in campo nella ripresa ma non soltanto all'Hotspur Stadium, centrocampista danese che ha caratteristiche che possono ingolosire sia Giuntoli che Manna soprattutto alla luce di quanto accaduto al centrocampo per cui sappiamo perfettamente Pogba e Fagioli non saranno disponibili. Le richieste però per Heuberg sono piuttosto esose e 30 milioni tra prestito oneroso, condizione essenziale per i bianconeri a gennaio, successivo riscatto hanno un po' intiepidito questa pista però è secondo me una pista che potrebbe essere utilizzabile e anche interessante. Quindi lui viene utilizzato molto con parsimonia però la Coppa d'Africa potrebbe aprirli maggiori spirali in squadra con la voglia di visibilità. Andiamo in mediana perché nelle ultime settimane ha preso quota l'opzione Calvin Phillips che è un campionista di caratura mondiale che però nel City ha raccolto 89 minuti in campionato quindi non sono molti, 8 in Champions. L'inglese è interessato chiaramente ad accrescere maggiormente il proprio minutaggio in ottica nazionale, ha uno stipendio e un cartellino fuori portata ma i citizen potrebbero anche accontentarsi di cederlo in prestito in questo caso per garantire una continuità di rendimento. Giuntoli e Manna stanno valutando anche questa opzione e possibilità che aprirebbe scenari interessanti anche se diciamo che in mediana non sono proprio le caratteristiche che cercano sia giuntoli che Manna. Tempi che riguardano l'estate, noi sappiamo in calciomercato si riesce a fare un'ipote di lungo termine mai rispettata però possiamo parlare anche di questo per cui si potrebbe gettare le basi a colpo a costo zero per il mercato estivo. Lloyd Kelly scadenza a 2024, difensore del Bournemouth, 25 anni di Bristol che è promettente e soprattutto è interessante anche perché nel 2024 potrebbe affacciarsi da svincolato. Stipendio decisamente interessante e abbordabile, un milione e mezzo all'anno però attenzione è comunque un calciatore Kelly che piace anche al Milan, ma soprattutto Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. C'è un altro nome, Sancho, questo è il frutto di un po' di ricerche perché alla fine sappiamo perfettamente che i veri colpi non saranno questi se ci saranno. Reparto offensivo, è l'inglese che alla fine ha rotto con Tenag, apertura del Manchester United da contribuire all'ingaggio, oltre 20 milioni netti a stagione per cui è un separato in casa che sarebbe bene alleggerire come stipendio, quindi vedremo anche qui che cosa potrà accadere. Più tiepido invece l'interesse per parte dell'Arsenal che i dirigenti bianconeri vedrebbero salutare Londra in favore di un ritorno all'Atletico Madrid, però questo effetto domino consentirebbe al Colcioneros di rinunciare a De Paul che è uno dei nomi più caldi e forse più interessanti e un nome che resta in cima alla lista di giuntoli insieme a quello di Samardis dell'Udinese. Come abbiamo potuto notare ieri, molte squadre in campionato zoppicano, poi ci sono i miracoli delle squadre italiane che vincono, Milan, chapeau, perché alla fine hanno giocato e sono riusciti a portare a casa il risultato. Ci vediamo presto, perdonate questa brevissima intusione, però sappiamo anche che queste sono sempre voci incontrollate, aspettiamo effettivamente quello che accadrà, perché un rinforzo in centrocampo ci vuole per forza. Ci vediamo presto.